Hola, sono Anna Maria, sono di Milano. Voglio cambiare la mia vita perché voglio diventare più ricca. Questo è il motivo per cui ho fatto questo corso di Alfio. Lo ho conosciuto in un altro corso di sviluppo, scusate per il spagnolo, che mi ha dato questo corso sicuramente la percezione che se voglio diventare ricca devo primariamente cambiare la mia mentalità e insegnare al mio cervello che posso farlo. Secondo, che devo apprendere un metodo e a questo corso Alfio mi ha insegnato come. Asi che qualche persona lo può fare, non è così difficile. Asi che la prima cosa che hai che comprender è che nella nostra cabeça abbiamo che comprendere che possiamo farlo. In cinque anni mi sono molto felice, molto ricca, che posso perseguire i miei progetti e anche avere il dinero che mi serve per fare le cose che mi piace, anche con la mia famiglia e poter aiutare anche altre persone. Lo che ho ho fatto in cinque anni è monitorare molto bene i miei numeri e sempre tenere un obiettivo molto chiaro e controllare e tenere presenti sempre i numeri che voglio perseguire e le diverse etapiche che servono per fare questo. Asi che, da mattina, voglio iniziare a farlo. Grazie e assolutamente i migliori auguri di tutto.